radicato in cristo sei chiamato alla perfezione dell'amore che cosa significa articolo 13 lo spirito salesiano una tipica esperienza evangelica che ha la sua esorgente nel cuore stesso di cristo che spinge al dono e al servizio quanti ravivono cioè noi dobbiamo farci un esame di coscienza se a un certo punto questa spinta non la sento probabilmente mi so perso chi mi spinge cioè mi so perso gesù e qui il pericolo è reale